Il primo mestiere voglio cominciare perché la mia santa sono messa in prigione sono messa in prigione e non ci vogliono stare mentre vampere fuoco e tante ore ora no che pensavo di fare ci dicevano una posta di solito nessuno una posta di solito non fa niente riprescavamo tutta la mia tante e poi c'è la seconda o sore e frate che niente pensate che posso farci tutta la vita non è il pregatore che sconta peccato molto la fame e si corrisate faceteci, 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 caratate l'altro in tutti i panni si è pulito con tutti i panni che c'è lato ci sono le piaghe e le ferite a me sono amici e le pari i pregatori ci sono tanti ci sono tanti, ci sono tanti non fare niente, però non è tutto trusante ma forse non fare niente non riusciamo tutta la mia tante ancora i figli che non piazzatrici che non piazzatrici non fare niente 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 L'ultimo anno c'era la mamma e non riusciamo a riuscire, tutto il mese è morto. Non riusciamo 5 volte, ho solo, 5 volte riuscire a costare. E poi ci soccionò a Gallerio, ma se no non mi imparo. Quindi sinceramente riuscì sempre. L'ultimo anno io ci soccionò a Gallerio, se riusco io mi imparo. E allora... Ma se stanno in mente avevo a dire, mamma c'è cent'anni che è morto, non mi hanno scordato.